Vi ricordo che la SOIP ha destinato 10 premi, più ci sarà un premio della Fondazione Ivo De Carneri per presentazione su una malattia tropicale negletta. Iniziamo con la dottoressa Noli Luzada Flores, che ci presenterà insieme ai collaboratori una clearance completa del DNA circolante di Volbachia in cani naturalmente infetti da dirofilari mitis dopo trattamento con doxicicrina. Prego. Vivian, allora io metto 10 minuti, quando mancano due minuti faccio segnale. Ok, first of all I would like to thank for the opportunity to be here and inform that today I will present in English, because I'm here in Italy for a little time, so it's better for all of us. Ok, as professor already told us, today I'm going to present to you this study entitled A Complete Clearance of Circulating Volbica DNA Indurofilari Mitis Naturalmente Infected Dogs After Treatment with Doxicicline. This study was developed in collaboration with University of Parma and University of Napoli and developing a new University of Bari-Odomoro, where I'm a first year PhD student. As my colleagues mentioned yesterday, we all invite you to follow our Instagram page where we share a lot of knowledge about scientific reports and also about all the projects that we are presenting here. So, first thing, talk about the heartworm disease. We all know that it's caused by Derofilari Mitis, in which the presence of adult thematodes can be found in the cardiopulmonary system of infected dogs and cats. This disease can often lead to that, if not properly treated. So, talking about the treatment, we have a lot of combinations that can be, can present efficacy against the disease, but one of the most common adulticides is the melarozormine dehydrochloride that somehow can cause pulmonary thromboembolism as a consequence of the death of the worm inside the heart. So, the combination of doxycycline with imidacloprid and moxidectin is presenting as a good choice to present a higher efficacy and lower properties that are a consequence for the dog. Because it presents a higher, presents a lower inflammatory response and a lower positive side complications when in the treated dogs, present in a higher efficacy when compared to other microcyclic lectones. The efficacy of this treatment is because it targets the Volbachia by reducing the hebreogenesis of Derofilari Mitis and a consequence gradual elimination of Microfilaria. So, as we all know, the Volbachia Pipientis is a gram-negative bacterium which is maternally transmitted. It can be found in all stages of nematodes with a presence that increases starting for the stardium larvae until the end of adults. It can be found in lateral cords of male and female worms and in females can be found also in the reproductive tract. This bacteria produces essential enzymes for the development, the fertility and the survival of filariote species and in relation to the heartworm disease, it can be partially responsible for worsening the clinical signs of this disease. So, as we all know since the beginning of the Congress, in the last few decades there are increasing of number of autochthonous cases of canine heartworm disease, partially in central and south of Italy, and we can consider some regions as hyperendemic, as for example the Apulio region with a prevalence of almost 45% and also the Pelagio archipelagos with a prevalence of almost 60%. So, the objective of the study was to monitor the time course in Volbachia in a treated canine population in Linosa Island. To do that, the methodology start at enrollment, where in October of 2020, 53 dogs had their sample from blood and serra, collected and examined by knot test and antigen test. Based on the positive for both tests, the dogs were divided in three groups, where the first and the second groups received doxycycline twice a day for four weeks, and the three groups received advocate monthly until the end of the study, which comprises a time of one year. It's important to say that at the enrollment, all the samples were also screened for the presence of Volbachia DNA for the FTSD gene by qPCR. In the next two time points, at November and December, the group one and group two were also screened for knot antigen and qPCR for Volbachia. In 2021, the last four time points, January, April, July and October, all the three groups were screened only for antigen test and for the Volbachia DNA. We did not perform knot test in this time point because since the second time point, the dogs were completely absent of the circulating microphyllia. Presenting the results of knot test, we can see here that at the enrollment, 70 dogs were positive for the circulating microphyllia and after two at December, at T2, no dogs were positive for the presence of circulating microphyllia. This is for the group one, which was the only positive group for the circulating microphyllia. And we can mention also that this rapid reduction is relevant because it interrupts this life cycle of the parasite and, as a consequence, reduces the reservoir capacity of infected animals. When we see the results of antigen test, we can see that in the group one, we observe, and both groups observe, how can I say, gradual reduce of the number of positive dogs during the whole time points. And at T6 for the group one, we observe that a complete absence of positive dogs one year after they started the treatment. And at July for 2021, we observe also a negative, a complete negative for the group two. This can be detected because the antigen test can detect low levels of residual antigen even after that of the adult heartworm. In relation to Volbachia results, in blue, we observe the results regarding the time point zero at the enrollment before the treatment. And we see here in the blue balls the CT of Volbachia. In orange, we see no longer, we don't see no longer more DNA of Volbachia at T2-1, indicating that the treatment was successful. So we do not observe also the Volbachia DNA at the first time point onwards until the end of the study. So the conclusion of the study, we can mention that the QPCR of Volbachia can be used, can be considered a diagnostic test in naturally infected dogs as a complementary strategy. And its detection can be associated with the circulfillating microfilata, as we all know. We can also mention that the doxycycline is highly effective to reduce the microfilata concentration. And finally, the usefulness of QPCR of Volbachia DNA can be considered as a reliable and complementary test for the presence of zero-flight emitters in dogs. I would like to thank all of you for attention, for the collaborators, the professors, and it's that. Thank you. Is there any question from the floor? If not, what do you think about the possibility to follow up for longer time the dogs? Well, as we see that no longer we observe neither the Volbachia, neither the antigen test, the antigen positive in dogs, and neither the presence of microfilata. I don't see that there's a need to monitor those dogs. But obviously it's also interesting results to provide further information. But we expect that we no longer found because these dogs are being treated. Any other questions? Please. For a very nice presentation. A question about the clinical aspects. So maybe you said at the very beginning and I missed it. Were the dog assessed by the clinical stage of infection? And were there any side effects observed by the fact that by killing Volbachia you actually don't know when the adulticidal effect is actually taking place? Thanks. Okay, thanks for the question. Well, the study was developed in Linos Island, which is a highly endemic region. And as a side effect for the presence of Obachia we do not observe, but we know that the presence of this bacterium can cause some severo, severo no, but some side effects due to the inflammation of the presence of the bacteria. So we can worse the clinical aspects. So I think it's that. Last question, please. What's your gut feeling about this overuse of antibiotics in dogs and these alternative protocols? Is there any risk in your opinion for developing drug resistance in closely related bacteria which can cause by themselves some diseases in dogs? So maybe probably if you balance risk of benefits of using this alternative protocol, probably there could be the higher risks rather than use the melarsomine or something like that. So I was wondering what's your gut feeling? Yes. In fact, this is a other protocol we can mention, but there is always the risk of the resistance that include all the treatments in the bacteria, parasites. And it's a risk that we are submitted, we can say. But yes, there is a risk. But I think that it's a need to find another ways of treatment to reblate this disease and also all the problematic of this disease. I think it's important, yes. Thank you. Okay. Thank you. 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 I would like to invite Dr. Sabarotto-Baccarzzi, who will talk about cross-protective immune modulation in parasitic infections. The lovacic surface protein from filarial nematodes determines macrophage activation and killing of legemania parasites. Thank you, Amy. Thank you very much. For the time, please. Welcome to Dr. Sabarotto-Baccarzzi. Thank you. In this presentation I want to introduce you the results of a recent work that is focused on the study of a protein as a Wolbach and his effect immunodulant compared to the parathy the Legemania. Inizierei con una brevissima introduzione parlandovi del paradigma TH1-TH2 che stabilisce un'associazione causale tra il fenotipo delle cellule fagocitarie e dei linfociti T a seconda delle citochine che vengono rilasciate e la protezione o suscettibilità nei confronti dei patogeni intracellulari. Quindi se si stabilisce un'induzione di una risposta di tipo TH1-M1 quindi con il rilascio di citochine preinfiammatorie ci sarà una protezione nei confronti del patogeno intracellulare e l'induzione di una risposta immunitaria di tipo cellulo-mediata. Se di contro invece abbiamo un'induzione di una risposta di tipo M2-TH2 avremo quindi la produzione di citochine antinfiammatorie e l'induzione di una risposta di tipo anticorpo-mediata che non garantisce una protezione nei confronti del patogeno intracellulare. Una patologia che rispecchia, si adatta bene a questo tipo di paradigma è la lesmagnosi. Infatti se viene stabilita principalmente una risposta immunitaria di tipo M1-TH1 avremo una protezione nei confronti del parassita mentre se di contro avremo un'induzione principalmente di una risposta M2-TH2 quindi di tipo antinfiammatorio non viene garantita la protezione nei confronti del patogeno e quindi l'ospite svilupperà l'infezione. Quindi la ricerca e l'identificazione di molecole immunostimolanti che quindi indirizzino la risposta in un senso M1-TH1 pro-infiammatorio è sicuramente molto interessante nella ricerca della lesmagnosi. Proprio a tal riguardo ci siamo focalizzati sul batterio volbacchia. Viene descritta che esiste una correlazione negativa nei cani tra il DNA circolante di volbacchia e la lesmagnosi. Infatti viene riportata quindi una che in cani dove c'è una presenza di DNA di volbacchia circolante sia maggiormente associata e più frequente in cani che non sono infettati dal parassita lesmagnosi. Quindi in qualche modo viene descritto come un potenziale ruolo protettivo della volbacchia verso la lesmagnosi. Questo perché dei pattern molecolari di volbacchia inducono la stimolazione di una risposta pro-infiammatoria M1-TH1 che quindi favorirebbe la degradazione del parassita lesmagnosi. Tra tutte le molecole di volbacchia ci siamo soffermati sulla volbacchia surface protein che è una molecola immunopolarizzante. In molti articoli viene descritto quindi il suo ruolo proti-H1. Infatti la VSP stimola il rilascio di citochine pro-infiammatorie come l'1-beta e il TNF e la produzione di ossido nitrico che è una delle molecole che il macrofago produce in risposta all'infezione da lesmagna. Per questo motivo abbiamo quindi sfruttato la volbacchia surface protein utilizzando come veicolo di espressione il batterio Azaia. Ottenendo quindi un batterio chimerico Azaia e VSP quindi sfruttando la VSP della volbacchia del nematode di rofilari mitis. Il batterio, questo batterio ingegnerizzato chimerico è stato quindi utilizzato in esperimenti in vitro proprio per capire se potesse indurre una risposta di tipo di H1 pro-infiammatoria e se successivamente questa risposta potesse inibire la proliferazione del parassita. In questo slide ho voluto riassumere il piano sperimentale che abbiamo adottato nei nostri esperimenti. Quindi mentre nella parte in alto abbiamo quello che succede normalmente quando si infetta un macrofago con il parassita lesmagna quindi il macrofago viene polarizzato in senso M2 quindi con la produzione di citochine antinfiammatorie e si ha quindi associato con la proliferazione del parassita quello che noi abbiamo fatto è riassunto nella parte bassa del grafico abbiamo utilizzato una linea di macrofagi che derivano dal topo bulb C che è un topo suscettibile all'infezione abbiamo quindi prima incubato il macrofago con l'Azaia VSP e poi successivamente con promastigoti di lesmagna infantum 24 ore, 48 ore dopo l'infezione siamo andati a determinare tipici marker M1-TH1 come citochine, marker di superfici e poi la vitalità dei promastigoti prima di tutto abbiamo determinato il tasso di fagocitosi ovvero se il batterio Azaia VSP potesse stimolare la fagocitosi nei confronti del batterio Azaia VSP stesso quindi come vedete dopo due ore vengono fagocitati molti più batteri Azaia VSP rispetto al batterio controllo che è un batterio ingegnerizzato ma con un plasmide vuoto senza la cassetta genica della VSP con un effetto paragonabile a quello determinato dall'LPS che è il controllo positivo dopo 24 ore siamo andati a determinare la localizzazione del batterio quindi sulla sinistra vedete macrofagi incubati con il batterio Azaia VSP quindi si notano molti più batteri internalizzati dal macrofago e un'intensa attività fagocitica di tipo degradativa perché ci sono numerosissimi vacuoli digestivi sulla destra invece ci sono sempre gli stessi macrofagi della stessa linea cellulare incubati con il batterio controllo e infatti si notano più macrofagi non ancora fagocitati quindi all'esterno e meno vacuoli digestivi siamo andati poi e abbiamo proseguito determinando marker di tipo M1TH1 quindi citochine preinfiammatorie come il TNF e l'IL12 in entrambi i casi abbiamo una maggiore produzione di queste citochine da parte di macrofagi incubati sia con l'Azaia VSP che l'Azaia Controllo rispetto ai macrofagi non trattati lo stesso risultato l'abbiamo ottenuto per altre citochine preinfiammatorie 1-Beta e l'IL6 dove si nota una differenza nella produzione di questa citochina quando il macrofago viene incubato con l'Azaia VSP rispetto al batterio controllo una differenza molto più netta invece l'abbiamo ottenuta andando a determinare, a quantificare la produzione di ossido nitrico e di specie reattive dell'ossigeno che sono due molecole chiave che il macrofago produce appunto quando viene stimolato in senso preinfiammatorio in entrambi i casi vedete come ci sia una differenza statisticamente significativa tra l'Azaia VSP e l'Azaia Controllo per entrambi i marker determinati vado veloce sulle molecole costimolatorie anche in questo caso abbiamo l'espressione di molecole di superficie di MHC da parte del macrofago incubato con la VSP solo per farvi vedere la percentuale di macrofagi che esprimono queste molecole sia maggiore rispetto al batterio controllo al batterio incubato solo con la lesmania passo alla slide più interessante dove abbiamo determinato proprio il killing della lesmania quindi siamo andati dopo 24 ore, 48 ore abbiamo recuperato le cellule, le abbiamo colorate abbiamo determinato il numero medio di amastigoti questo è il risultato dopo le 48 ore come vedete c'è una riduzione del numero medio di amastigoti quando il macrofago viene incubato con l'Azaia VSP rispetto al macrofago incubato solo con la lesmania quindi senza il pretrattamento c'è una riduzione più del 50% con un effetto sovrapponibile a quello dell'anfotericina B e questo fenomeno viene si può vedere anche dalle immagini al GIMSA dove ci sono un gruppo di macrofagi incubati con l'AVSP ci sono numerosi vacuoli gli amastigoti all'interno sono in degradazione hanno perso l'integrità delle membrane mentre quando il macrofago non viene pretrattato col batterio ci sono moltissimi promastigoti ancora fuori e gli amastigoti all'interno sono in replicazione e vitali quindi diciamo che l'Azaia VSP induce una forte riduzione del numero di amastigoti quindi determinando il killing di promastigoti di lesman infantum quindi in conclusione possiamo dire che il batterio Azaia VSP induce una risposta pro-infiammatoria di tipo M1-TH1 determinando quindi proprio questa risposta immunitaria induce a un effetto anti-lesmanie nei confronti del parassita e quindi si sottolinea nuovamente l'effetto immunomodulante della VSP il ruolo dell'Azaia come veicolo e quindi il batterio chimerico Azaia VSP può essere considerato come un batterio terapeutico immunomodulante grazie, grazie a voi per l'attenzione grazie a Laria apro la discussione domande Davide sì, grazie Laria bellissima presentazione splendido lavoro ho una domanda riguardo le tempistiche cioè i macrofagi poi se le mangiano le asaie o vi aspettate che la modulazione possa durare e se avete ragionato in questo senso sì, allora oltre alla determinazione del tasso di fagocitosi che è il grafico che ho mostrato quindi dopo due ore vediamo che il batterio viene internalizzato poi abbiamo fatto delle prove anche di sopravvivenza del batterio a 24-48 ore e alla fine ovviamente come un batterio viene degradato però tutti gli esperimenti poi di coinfezione noi li abbiamo fatti tenendo conto di questo time point quindi dopo due ore stimiamo che vengano maggiormente internalizzati i batteri asaie VSP rispetto al batterio controllo e poi vengono comunque mantenuti fino alle 24 ore quando viene fatta l'incubazione con la lesmania grazie, ancora compilamenti Ezio legata a questa e invece di utilizzare asaia usare un estratto di asaia perché per esempio la tubercolina è stata provata come adiuvante per i vaccini per l'esmania quindi invece di pensare di inoculare in un paziente un batterio per quanto è provare inoculare solo l'antigene non avete esperienze se funziona come l'intero batterio per quel che riguarda l'attivazione dei macrofagi? Allora non abbiamo fatto questo tipo di esperimento l'asai è un batterio comunque non patogeno quindi iniziavamo comunque con l'utilizzare un batterio che non potesse poi dare problemi in un possibile futuro quello che volevamo però sfruttare proprio il batterio stesso come veicolo per l'espressione e la produzione dell'antigene in una sorta nel contesto per esempio dell'i-bacterial vaccine sfruttare il batterio e le sue proprietà intrinseche quindi il tropismo verso le cellule fagocitarie la stessa sua funzione da adiuvante certo rimane comunque però la capacità di veicolare molto più efficacemente l'antigene e quindi stimolare una risposta efficace di tipo cellulo mediata che altrimenti dando solo l'antigene non avresti come risposta completa grazie all'aria purtroppo non c'è più tempo passiamo al prossimo o alla prossima candidata che lascio al presidente presentare allora Verzandi che ci presenterà varrò distrutto in varrò transmitted viruses impact environmentally monitored e pure buongiorno a tutti il lavoro che vi presento adesso è stato presentato e discusso ieri da parte del mio collega Andrea Sardo che focalizzava su parte che riguardava effetto di varroa distractor su produzione delle api in due apiari con setting agricoltura diversa io invece focalizzerò su ruolo di varroa distractor come un etoparasite su effetto di varroa distractor un etoparasite che trasmette due virus dei sei virus più importanti in produzione delle api virus di paralisi acuta e agli deformi che sono presenti in prevalenza basso in apiari diversi maggior apiari a livello mondiale ma vengono infezioni di questo virus aumenta accompagnato con aumento di infestazioni di varroa a livello quando infestazione di varroa è diminuito infezione di virus si vede si osserva a livello asintomatico e con basso mortalità invece quando si incrementa e si aumenta il livello di infestazione di varroa ce l'abbiamo ancora più infezione di questi virus e si osserva sintomi e si aumenta anche il depopolamento delle api che si nota come un fenomeno che si chiama colony collapse disorder come ho detto prima questa sinergia fra presenza di infestazione dalla parte di varroa infezione con gli api con i virus causano diversi sintomi che a livello di virus ali deformi e patoneomonico come problemi a livello di covata o ali deformi invece per i virus paralisi acuta solo si vede a livello di mortalità e depopolamento delle api dobbiamo notare che la prevalenza di virus DWA ali deformi strain A è molto più maggiore rispetto paralisi acuta e invece la mortalità di virus paralisi acuta è molto più maggiore di virus ali deformi come scopo di questa ricerca noi volevamo indagare la prevalenza di questi due virus sia nelle api che etoparassite varroa distretto anche indagare la correlazione fra numero di varroa numero di varroa numero di api o forza di famiglia che è stata allutata con un metodo che si chiama COLEVA noi abbiamo fatto tre ripetizioni di campionamento in 40 colonie in due diversi apiari in tre mesi di giugno luglio e ottobre questi due apiari sono stati gestiti identicamente ma in due diversi punti in provincia di Cuneo il campionamento è stato fatto con un depositivo che si chiama varro easy jack è in grado di campionare sia le api che varroa allo stesso tempo COLEVA invece è un metodo di valutazione in cui si comprende numero di api numero di covata sia aperta che chiusa e anche produzione di miele e polline abbiamo fatto PCR qualitativa per le campioni di api e PCR quantitativa con quantificazione assoluta sulle campioni di varroa come risultati posso dire che la prevalenza di virus paralisi acuta è stata molto più minore rispetto virus ali deformi che in linea con lavori pubblicati la prevalenza di varroa come un etoparassite è stata 100% è stata sempre presente in almeno di un campionamento di ogni colonia in tre mesi diversi come vedete la prevalenza è stata aumentata da giugno fino a luglio e poi un poco diminuisce in ottobre dobbiamo notare che fra luglio e ottobre si è stato un trattamento anti acaricidi prevalenza di virus in varroa è stata quantificata e come vedete la prevalenza maggiore è con ancora ali deformi rispetto il virus di paralisi acuta qui non so perché qui la correlazione fra carica virale di virus ali deformi e parasiti acuta è stata dimostrata contro numero di api o forza di famiglia come si nota in tutti i due casi la correlazione è negativa ma per virus paralisi acuta è più significato è forte significativo invece in virus ali deformi è meno significativo numero di varroa è in correlazione positiva con numero di api e forze di famiglia è anche da notare che il range di carica virale per due virus è diverso è molto più ampio per il virus paralisi acuta che virus ali deformi invece in letteratura si può vedere che 50% quasi 50% di api nelle api hanno un carica virale molto alto più 10 milioni di viral particle per il virus ali deformi rispetto virus paralisi acuta che se consideriamo questo si può suggerire che il virus ali deformi è più dipendente a infestazione di varroa per avere il suo maggior effetto di mortalità su numero di api come ho detto come abbiamo visto i risultati sui risultati numero di la prevalenza di questi virus in campione delle api è stata molto meno rispetto varroa se consideriamo che ali virus paralisi acuta ha un alta mortalità e la pcr qualitativa può avere un sensibilità meno rispetto quantitativa possiamo suggerire che avevamo numeri maggiori di false negativi quando abbiamo fatto il test per la prevalenza di virus invece per DWA possiamo concludere che questo virus è molto più dipendente rispetto paralisi acuta a infestazione di varroa grazie grazie è rimasto perfettamente nei tempi domande posso fare uno io asco due scusa certo sì sì un attimo di pazienza stanno cambiando di pile venga pure qua ma secondo te la varroa agisce solo come vettore meccanico o può esserci un suo ruolo come vettore biologico nel trasmettere questi virus negli apiari la varroa può agire solo come vettore meccanico o può avere qualche ruolo come anche vettore biologico nella trasmissione di questi virus comunque è stata dimostrata che il virus si replica anche nella varroa a se stessa quindi sicuramente c'è anche il ruolo biologico in trasmissione virale posso fare sì sì volevo fare una domanda perché può darci che non abbia capito allora la quantificazione sia di varroa che del viral load dentro varroa ok effettuati che avete fatto lo scopo della quantificazione è mirato a capire se abbassando sotto una certa soglia varroa il rischio di trasmissione virale sia zero o sia bassa di molto cioè ho capito che era questo lo scopo della quantificazione di quantificazione carica virale intende entrambi avete quantificato i aceri numero di aceri e poi i virus all'interno dei noi come quantificare carica virale in varroa volevamo sapere la come è la dinamica di trasmissione quanto è può essere quanto effetto ha la varroa perché su alcuni virus sono stati fatti più lavori per esempio agli deformi su alcuni di meno quindi volevamo sapere che anche su altri virus che stanno questa dinamica questa trasmissione come rispetto gli altri e anche in relazione con il numero di varroa esattamente di quello che volevo sapere grazie altre domande ok non ce n'è una ultima veloce tanto complimenti è sempre affascinante parlare di api c'è una possibilità di discriminare la mortalità tra varroa e invece dalle forme virali l'avete considerata delle forme virali noi la mortalità non abbiamo valutato in questo studio solo volevamo sapere la relazione con i dati a forza di famiglia di api e dati che ce li abbiamo da un finestra di produzione bene grazie passiamo alla prossima invito quindi la dottoressa no dottor Villa no avevo visto una ragazza che si muoveva sì perché non abbiamo abbiamo solo il cognome non abbiamo il nome per cui abbiate pazienza ci presenterà il lavoro prevalenza molecolare di babesia canis di infezione babesia canis in dermacentro reticulatus zecche dermacentro reticulatus raccolte in un parco naturale in Italia prego grazie buongiorno a tutti allora dermacentro reticulatus detto anche zecca ornata del cane o zecca delle paludi è uno dei più importanti vettori di patogeni trasmessi da zecca in Europa causando malattie sia nell'uomo che negli animali è infatti riconosciuto come il principale vettore di babesia canis nel cane ma anche di altri patogeni di importanza veterinaria come babesia caballi e teleria equi negli equini anaplasma marginale nel bovino e anche di alcune malattie di rilevanza medica come alcune specie di ricchezia e virus delle encefalite da zecca in questa mappa si può vedere quella che è la distribuzione di dermacentro reticulatus in Europa in cui si può evidenziare una distribuzione discontinua e altamente focale nel centro nord Europa con un'espansione nelle regioni più a sud negli ultimi anni babesia canis è riconosciuto come l'agente zoologico della babesiosi canina nell'area del centro nord Europa e anche nell'area di studio in nord Italia la babesiosi canina è una malattia emoparassitaria dei cani caratterizzata da anemia emolitica splenomegalia trombocitopenia e febbre all'interno dei bacilli grannegativi appartenenti al genere ricchezia il gruppo delle spotted fever group includenti ricchezza slovacca e ricchezza raulti sono due specie che possono essere trasmesse da dermacentro reticulatus questi patogeni sono causa della linfodenopatia da zecca detta anche tibola che è una delle più comuni riccheziosi trasmesse da zecchi in Europa è caratterizzata clinicamente da un'escara nel sito di attacco della zecca circondata da eritema e linfodenopatie regionali e dolorose considerando questi due studi che sono stati condotti nell'area di studio in particolare un primo studio che aveva rilevato un focus di dermacentro reticulatus associato a casi di babesia canis nei cani dell'area e un ulteriore studio sulle dinamiche stagionali di dermacentro reticulatus in un parco periurbano in nord Italia il presente lavoro aveva come obiettivo quello di indagare su patogeni potenzialmente trasmessi da zermacentro reticulatus raccolti in un parco naturale in Italia e valutare in questo modo quelli che erano i rischi per gli ospiti umani e animali per questo è stato pianificato uno studio per ricercare la prevalenza molecolare di babesia e ricchezia del gruppo spotted fever e la variazione stagionale in zecche questuanti dermacentro reticulatus per definire anche quello che era il rischio temporale di infezione le zecche incluse in questo lavoro erano quelle raccolte per il precedente studio sulle dinamiche stagionali di dermacentro reticulatus il sito di raccolta è nel parco regionale delle Grohane un'area periurbana delle zone di Milano e Monza in Lombardia nello studio originale vi erano incluse zecche di 5 transetti mentre in questo studio sono state incluse soltanto quelle dei transetti 1, 2, 3 in quanto quelli con densità maggiore di zecche il campionamento è stato condotto da aprile 2015 a giugno 2016 mensilmente utilizzando sia le tecniche di flagging che di dragging in questo parco è riportata una vegetazione caratterizzata da foreste miste di querce e anche presenza di corsi d'acqua e quindi è un ambiente ideale per il mantenimento appunto del ciclo di dermacentro reticulatus le zecche raccolte sono state identificate morfologicamente utilizzando le chiavi tassonomiche e è stata fatta anche la conferma molecolare le zecche sono state meccanicamente rotte in un buffer di lisi prima dell'estrazione del DNA attraverso un kit commerciale in seguito per entrambi i patogeni è stata prima fatta una PCR real time di screening in seguito confermata da una PCR convenzionale anche per il successivo sequenziamento i dati raccolti sono stati analizzati statisticamente per andare a indagare quella che era l'influenza del sesso della zecca del periodo di raccolta e del sito di campionamento per la positività appunto a babese o ricchezze passando ai risultati sono stati inclusi nello studio un totale di 488 esemplare di dermacento reticulatus adulti sia maschi che femmine di questi 58 sono risultati positivi per DNA di piroplasmide con una prevalenza molecolare dell'11,9% nei campioni per cui è stata possibile arrivare al sequenziamento a livello di genere e specie le sequenze ottenute hanno evidenziato un'omologia del 100% con sequenze di babese acanis depositate in genbank invece nessuno dei campioni sono analizzati il risultato positivo per DNA di ricchezza in questa tabella si può vedere quella che è la prevalenza molecolare di babese acanis classificata per mese e anno di campionamento in cui si può evidenziare una maggior prevalenza nei mesi di marzo di marzo e aprile dell'anno 2016 ma alcune zecche positive sono state riscontrate anche nei mesi di febbraio e maggio le zecche positive erano sia maschi che femmine vi era una prevalenza maggiore seppur non statisticamente significativa nei maschi per quanto riguarda la stagione non vi erano differenze significative è stata invece riscontrata una differenza significativa per quanto riguarda il sito di campionamento in quanto le zecche raccolte nel transetto 2 avevano una prevalenza babesia maggiore rispetto a quelle dei transetti 1 e 3 quindi in questo lavoro è stata confermata la circolazione di babesia canis in dermacento reticulatus in questo parco per i urbani nord Italia infatti nello studio precedente si era riscontrata una prevalenza nei cani del 12% in questo studio abbiamo evidenziato una prevalenza babesia canis nelle zecche adulte dell'11,9% la prevalenza è risultata maggiore nei maschi rispetto alle femmine spesso i maschi rispetto alle femmine sono classificati come leggermente ingorgati in quanto il passo di sangue è minore rispetto alla femmina e quindi si è visto come possano essere più difficili da ritrovare sul mantello del cane e quindi possano rappresentare un rischio maggiore di infezione appunto per l'ospite cane inoltre presentano un comportamento alimentare di interrupt feeding behavior è stata inoltre evidenziata anche la trasmissione precoce di babesia in otto ore da dermacento reticulatus e quindi ovviamente predispone a maggior rischio anche gli ospiti nelle femmine invece il mantenimento della trasmissione è dato sia dalla trasmissione transadiale che da quella transovarica la maggior parte delle zecche positive sono state riscontrate in marzo ed aprile che corrisponde anche a quello che è il picco stagionale dell'attività di dermacento reticulatus si è vista una prevalenza maggiore statisticamente significativa nel transetto 2 probabilmente dovuto al tipo di abitati e anche alla disponibilità di ospiti infatti il transetto 2 rappresentato nella foto a sinistra si può vedere come abbia una vegetazione di arbusti più rada ed è anche quello che ha una maggiore circolazione di umani e cani sono stati riportati i casi clinici dei babesiosi canina da babesia canisi in Europa inoltre in questa tabella sono riassunti quelli che sono gli studi riguardanti gli oscreening molecolari su zecche raccolte appunto in campo in cui si vede che la prevalenza è variabile da valori prossimi allo zero fino a valori del 20% è stato visto come in una recente review e meta-analisi la distribuzione globale di babesia si è stimata una prevalenza del 2,1% associata a diverse specie di babesia in dermacento reticulatus ma con babesia canis quella maggiormente rappresentata ad oggi non sono riconosciuti degli ospiti reservoir per babesia canis riguardo appunto il ciclo enzootico pertanto si è speculato su quello che possa essere il probabile ruolo da reservoir appunto nei cani nel ciclo di vita questo fatto potrebbe anche spiegare come già riportato in letteratura la recente diffusione geografica della babesiosi canina con l'introduzione in popolazioni locali di dermacento reticulatus di cani infetti e il mantenimento in seguito a breve termine tramite la trasmissione transovarica e transtadiale nelle zecche non è stata invece evidenziata la circolazione di ricchezze del gruppo spotted fever si è vista una prevalenza variabile di ricchezze raulti in dermacento reticulatus in Europa mentre ricchezze slovaca solitamente si trova solo con basse prevalenze in quanto è maggiormente trasmessa la dermacentor marginatus le zecche si è pensato che possano essere i maggiori reservoare di queste ricchezze ma probabilmente anche degli ospiti vertebrati dovrebbero essere necessari per mantenere questi agenti in natura l'assenza quindi nel nostro studio potrebbe essere dovuta alle caratteristiche dell'area di studio in quanto è un parco relativamente piccolo con una limitata biodiversità animale infatti è documentata la presenza di micromammiferi cani e cavalli ma non di ungulati selvatici concludendo in questo lavoro abbiamo confermato abbiamo praticamente rilevato la circolazione di babesiacanis in questo parco periurbano probabilmente appunto per la presenza regolare del cane mentre invece non è stata rilevata la circolazione di ricchezze del gruppo spotted fever probabilmente per la mancanza di ospiti vertebrati appunto per il ciclo di questi agenti è quindi necessario ricordare quanto siano importanti le misure preventive per i cani che frequentano queste aree in quanto la profilassia alle zecche dovrebbe essere durante tutto il periodo di attività di dermacento reticulatus quindi anche nella primavera precoce per prevenire appunto casi di babesiosi canina inoltre seppur non si è rilevata la presenza di ricchezze non bisogna dimenticare quello che è il ruolo di dermacento reticulatus anche come possibile trasmissione di agenti zoonotici all'uomo vorrei ringraziare la professoressa Manfredi e i miei colleghi per il supporto continuo e colgo anche l'occasione a poche settimane dal ritorno a questo corso il Parastrology Summer Course per ringraziare tutti i professori i colleghi e gli amici e anche la SOIPA per il supporto finanziario e grazie a tutti per l'attenzione bene è stato nei tempi no? ok bene ci sono domande? prego Marco due domande velocissime uno perché avete trovato soltanto adulti nel senso come avete fatto la raccolta delle zecche e due se avete messo in relazione questa positività che avete trovato con positività nei cani se avete avuto l'opportunità allora per quanto riguarda la raccolta delle zecche è stata condotta sia con le tecniche di dragging e flagging sulla vegetazione non sono stati riscontrati allora sono stati riscontrati solo adulti e non stadi larvali o di ninfa in quanto dermacentore eticulatus è una zecca endofila quindi le larve sono presenti soprattutto a livello dell'etane dei micromammiferi e le ninfe sono comunque più difficili da trovare perché tra gli ospiti che possono infettare si nutrono soprattutto sui micromammiferi quindi è più difficile trovare questi stadi rispetto agli adulti per quanto riguarda la correlazione con i casi di babesiosi canina è stato fatto questo studio in precedenza in cui era stata rilevata la prevalenza sia serologica che molecolare nei cani che era pari al 12% ed era stata riscontrata in alcune zecche che erano state campionate la presenza di babesia canis quindi ci stiamo partendo da quei risultati da quelli delle seasonal dynamics abbiamo fatto questo studio sugli esemplari che erano stati raccolti ci sono altre domande prego chiedevo la differenza fra i due anni 2015 qualche maschio positivo 2016 una prevalenza altissima nelle femmine come spieghi questa differenza allora la prevalenza che è i maschi positivi anche nel 2015 sono stati riscontrati soprattutto verso il tardo inverno inizio primavera in quanto per dermacento reticulato si è riportato come i maschi possano essere più precoci delle femmine nel 2016 invece probabilmente è legato anche alle condizioni climatiche perché poi nello studio delle dinamiche stagionali è stata fatta proprio l'analisi anche su quelli che erano in entrambi gli anni le condizioni di temperatura e umidità e quindi probabilmente c'era una condizione più favorevoli per per la zecca grazie complimenti complimenti per il lavoro veramente molto interessante e soprattutto un lavoro che è interessante perché conferma un focolaio già precedentemente evidenziato ora è importantissimo nello scenario delle malattie trasmesse da artropode e cane da zecca e cane in Italia perché è la prima volta che si sa che c'è un focolaio endemico del macentro reticulatus e quindi potenzialmente di babesia canis anzi avete trovato anche casi di babesia canis e la mia domanda è pensi che si possa avvenire un'espansione attraverso la dorsale appenninica per esempio anche in centro e sud Italia di questa zecca che sappiamo non era presente in Italia del nord e nemmeno in tutta la penisola perché è tipicamente del centro Europa e di altre regioni in Europa cioè i cambiamenti climatici tutto ciò che sta avvenendo pensi possa influenzare in positivo o in negativo questa espansione? Allora io penso che il cambiamento climatico possa influenzare in negativo l'espansione cioè che possa espandersi maggiormente anche verso il centro Italia come non ci si aspettava di ritrovare Dermacentoreticulatus in nord Italia in questa zona perché era si presumeva che era solo in centro nord Europa diciamo che visti tutti i cambiamenti e viste le dinamiche anche delle zecche penso che possano trovare condizioni favorevoli anche verso il centro Italia bene grazie grazie allora passiamo alla dottoressa Bertola che ci parlerà dello sviluppo di un sistema geoepidemiologico integrato per la valutazione del rischio occupazionale di patogeni Tic-Bosna prego buongiorno allora sì parlerò di questo approccio che vede la collaborazione di varienti per un progetto di One Health allora sappiamo tutti che la maggior parte delle patologie trasmessi da vettori in Europa riguarda le Tic-Bosna pathogens e che il vettore principale di questi è Ixodes ricinus negli ultimi anni si è assistito per una serie di fattori interconnessi all'incremento dell'interfaccia delle interazioni del contatto tra zecche patogeni e ospiti principalmente per un aumento della condivisione dell'habitat di questi tre componenti ricordo solo che la salute unica è una collaborazione coordinazione comunicazione tra persone volte a migliorare la salute dell'uomo delle persone degli animali e dell'ambiente per questo motivo abbiamo creato questo progetto con vari partner tra cui l'INAIL che è stato il finanziatore l'istituto zooprofilatico sperimentale dove lavoro che è stato coinvolto a vari gradi il dipartimento di medicina molecolare dell'università degli studi di Padova e l'università di Utrecht tutti noi abbiamo collaborato con l'obiettivo di valutare il rischio di patogeni trasmessi da zecche per categorie di lavoratori o di persone esposte al morso della zecca nell'area del Triveneto i materiali e metodi possono essere raggruppati in tre grandi categorie la prima vede le zecche come componente principale e quindi la presenza e la composizione delle specie di zecche sia storicamente rilevate che attualmente presenti nel territorio la seconda parte dei materiali e metodi riguarda lo screening per cui i patogeni trasmessi da zecche in animali selvatici domestici zecche e uomini persone residenti nell'area l'ultimo punto si compone di dati ambientali e meteorologici tutti questi dati sono stati modellati insieme per definire le nicchie ecologiche delle zecche e predire le preferenze di habitat come risultato finale vorremmo produrre delle mappe di rischio di esposizione a patogeni trasmessi da zecche da diffondere ai cittadini qui vedete la timeline del progetto non è finito abbiamo completato la prima parte di raccolta di dati sia storici che di nuovi campionamenti di zecche sono stati prelevati sieri di animali domestici e selvatici e sono stati raccolti dati su popolazioni animali stiamo ultimando gli ultimi campionamenti zecche la loro identificazione morfologica e analisi molecolare inoltre stiamo anche finendo di scrinare i sieri animali e stiamo attendendo i sieri umani a breve e sono primariamente cominciate le analisi GIS di modellazione delle nicchie della valutazione del rischio e dell'implementazione di un portale per quanto riguarda i dati storici delle zecche abbiamo raccolto i dati del laboratorio dal 2006 al 2017 con più di 12.000 zecche esemplari di zecche raccolti e campionati analizzati e da questi sono stati segnalati più di 1200 casi di patogeni presenti nelle zecche i nuovi campionamenti invece hanno coinvolto due anni di campionamento 2020 e 2021 in Veneto e Friuli sono stati effettuati tramite drugging a cui è seguita l'identificazione morfologica e molecolare dei patogeni presenti nelle zecche e i dati sono stati elaborati per quanto riguarda la prevalenza di questi ultimi i dati sugli animali coinvolgono sia ruminanti domestici quindi greggi transumanti presenti nel territorio storicamente endemico per patogeni e sieri di animali selvatici prelevati tramite sistemi di sorveglianza passiva le analisi delle nicchie ecologiche hanno visto la creazione di un database con parametri sia ambientali che meteorologici a cui sono stati abbinati i dati di ritrovamento di patogeni nelle zecche con relativa georeferenziazione tutto questo è stato modellato per definire appunto le nicchie ecologiche e studiare la relazione tra la presenza di questi patogeni e gli animali presenti nell'area i risultati preliminari allora le zecche le zecche sono state campionate recentemente quindi 2020 2021 sono state 1388 la positività dei pool è stata superiore al 50% e la positività si riferisce principalmente a ricchezza ai generi ricchezza anaplasma e babesia tileria è interessante notare come l'8% delle zecche risulti coinfetto o con infezioni multiple in caso di pool non è stata trovata né TBE né crimean congo emorragic fever le pecore le pecore provengono a due greggi transumanti nella provincia di Belluno abbiamo scrinato 403 sieri e anche qui più della metà dei sieri più del 53% è stato trovato positivo per anticorpi principalmente per borreglia e ricchezza ma vediamo come nei due greggi le prevalenze e le positività siano nettamente differenti qui la la positività a più di un anticorpo è risultata ad essere del 30% e in particolare per i generi borreglia e ricchezza qui vedete l'implementazione che sta per essere disponibile sul sito dell'INAI quindi una pagina dedicata per informare le categorie di lavoratori esposti ai rischi di infezione da zecche e fornire misure preventive per quanto riguarda i risultati preliminari delle nicchie ecologiche si è visto che anaplasma è principalmente correlato con indici di vegetazione autunnale mentre borreglia è più definita per temperature basse e altitudine spero che a breve sia disponibile la mappa con le aree a rischio per i patogeni e che possa essere disponibile per i cittadini io ringrazio per l'attenzione e ho finito bene ci sono domande Marco bellissimo lavoro noi quando lavoravo a Lizzler abbiamo fatto una cosa simile e ti volevo consigliare nel senso visto che potete farlo mettere dentro in questa cosa anche gli ospedali ospedali pronto soccorso in modo che poi vi portino le zecche che trovano sui pazienti in modo da avere anche un riscontro dall'altro lato della barricata di cosa succede assolutamente penso che sia già in atto nella provincia di Belluno come centro di referenza e ogni settimana credo dall'ospedale ci arrivino anche i loro dati di zecche Altre domande? Prego I rate di coprevalenza di coinfezione che vedete avete provato a guardare se dai numeri vengono fuori casualmente o sono significativi? No ancora no sono risultati preliminari ci ho guardato ancora poco ma alla fine del progetto ho conto di fare anche queste valutazioni Ancora una domanda Complimenti per il lavoro solo una curiosità qual è la risoluzione spaziale del modello Maxent che avete in mente e che tipo di dati di temperatura e umidità se sono l'ANSAT modis o se avete dei dati puntuali presi sul terreno Ho tutto un datassetto di variabili poi ho il computer e ti faccio vedere tutto ma è complicatissimo e lunghissimo sono più di 19 variabili e il livello di finizione vado a vederlo Altre domande? Abbiamo tempo per una se volete No? Allora possiamo andare avanti Grazie Allora L'ultimo candidato è Marco Prato giusto? Buongiorno che ci parlerà di malaria epidemiology among children e pregnant women in Western Equatoria State South Sudan Buongiorno Buongiorno a tutti illustrerò una panoramica su questo progetto di cooperazione sanitaria svolto in Sud Sudan all'interno di un programma di lotta alla malaria come sicuramente ben noto a tutti quanti la malaria è una malattia infettiva trasmesse da un protozoematico appartenente al genere Plasmodium causata scusate dal Plasmodium è trasmesse da puntura da zanzara infetta appartenente al genere Anopheles giusto per avere un riferimento comunque è una malattia che dai dati presi dall'ultimo World Malaria Report fa più di 240 milioni di casi e più di 627 mila morti e peraltro la cosa interessante è il fatto che più di 11 milioni e mezzo di donne in gravidanza sono sposte a rischio di infezione il contesto nel quale abbiamo lavorato è Sud Sudan una popolazione di poco più di 11 milioni di persone che riporta 13.600 morti da malaria il vero problema è che non c'è un'epidemiologia l'ultimo sistema di sorveglianza fatto dal ministero sud-sudanese risale al 2013 i dati a cui si possono far riferimento sono quelli del World Malaria Report che sono però valutati in modo complessivo sull'Istafrica e soprattutto si fa riferimento al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi la diagnosi di malaria viene fatta attraverso test rapido il più delle volte utilizzando un solo target come antigene che è la proteina HRP specifica di falciparum basta vedere appunto a fronte dei 280.000 test utilizzati solamente 33 vetrini letti quindi questo fa capire più o meno qual è l'approccio diagnostico ecco da un punto di vista geografico come dicevo Sud Sudan si trova in una zona praticamente ad alta endemia malarica e soprattutto sebbene non abbiamo dati confermati per lo Stato in particolare ma sappiamo che tutti quelli che ci sono intorno sicuramente hanno il problema della comincia circolare con la delezione genica relativa alla proteina HRP e soprattutto il fatto che probabilmente non si ha solamente la circolazione di una specie plasmodiale quale falciparum ma potrebbe benissimo esserci anche la distribuzione appunto e la diffusione di plasmodium vivax inoltre sappiamo anche qui che è già stato riportato che nei paesi limitrofi circolano i geni di resistenza appunto alle artemisine pertanto il nostro studio si inserisce all'interno di un progetto più grande coordinato dall'ONGQAM che mira sostanzialmente a erobustire la risposta nelle tre fasi di prevenzione diagnosi e trattamento della malaria è un progetto che è stato finanziato dall'agenzia italiana di cooperazione e sviluppo e patrocinato chiaramente dal programma nazionale di controllo della malaria e dal comitato etico e dal ministero ovviamente della salute del sud sudan l'obiettivo lo scopo del nostro studio è stato quello di cercare di colmare questo gap conoscitivo che c'era proprio riguardo delle informazioni sulla circolazione del parassita in modo tale da poi poter proporre delle soluzioni nelle tre fasi appunto di prevenzione diagnosi e cura in particolare in una zona del western equatoria in sud sudan pertanto come obiettivi diretti cosa abbiamo avuto quello di supportare la riorganizzazione supportare appunto da un punto di vista pratico il setting dei laboratori e soprattutto la formazione del personale dei laboratori ma ancora verificare se e qual è la prevalenza della malattia capire sostanzialmente attraverso l'approccio diagnostico su diversi metodi quale possa essere il metodo più appropriato e soprattutto a quale livello del sistema sanitario può essere utilizzato un test diagnostico rispetto a un altro attraverso indagini molecolari verificare se realmente tutte le malarie viste in sud sudan sono date da plasmodium falciparum o via la presenza di altre specie misurare quante di queste specie di plasmodium falciparum non esprimono l'HRP e quindi vengono non diagnosticate dai test rapidi e quale sia in realtà la circolazione di geni di resistenza ovviamente restituire questi dati alle autorità locali abbiamo lavorato in sud sudan in particolare nella zona del sud ovest in western equatoria e nelle contee di Involo Mundri East Mundri West selezionando tre villaggi quello di Lacamadi di Mundri e di Involo abbiamo coinvolto invece l'ospedale di lui che è patrocinato da QAM come centro di riferimento e quality control center il periodo di studio è durato sei mesi da inizio dicembre fino a giugno sono state delineate due fasi che più o meno ricalcano una fase in stagione secca e una fase in stagione delle piogge per una totalità campionaria di duemila pazienti la nostra popolazione in studio sono state le donne in gravidanza i bambini al di sotto dei cinque anni che afferivano come visite o antenatali o pediatriche chiaramente ai dipartimenti dei PHCC quindi di questi centri ambulatoriali nel territorio rurale per ogni paziente che veniva arruolato e che decideva chiaramente volontariamente di partecipare allo studio da una puntura da digitopuntura si prelevava del sangue ed è stato eseguito un test rapido un vetrino e uno spot su carta bibula per test molecolari nello specifico si è scelto di utilizzare un test rapido che avesse due target quindi sì l'HRP specifica di Plasmodium falciparum ma la lattato di idrogenaci che sappiamo essere comune ad altre specie plasmodiali ovviamente la microscopia si componeva di goccia spessa e striscio per avere una valutazione quantitativa e soprattutto una diagnosi differenziale di specie e attraverso poi test molecolari ed NGS poter desumere tutto quel carico di informazioni relative ovviamente a farmacoresistenza e delezioni per HRP questa è l'SOP insomma la flow chart di come si procedeva nel lavoro allora la cosa sicuramente all'inizio del progetto per ogni PHCC coinvolto quindi per ogni villaggio in cui abbiamo lavorato abbiamo fatto una settimana di training specifico e sul progetto ma soprattutto in un'ottica di capacity building tanto sulla microscopia sulla malaria in generale ma tanto sulla microscopia malarica periodicamente i local PI quindi due persone che si sono occupate di fare la supervisione dei centri ovviamente facevano questo giro per verificare il corretto svolgimento del campionamento alla fine della prima fase con una seconda missione abbiamo fatto una verifica di come era andata chiaramente la prima parte e un nuovo training diciamo un recap del training nuovamente sulla microscopia questo nei tre PHCC all'ospedale di lui abbiamo fatto un corso intensivo sulla microscopia malarica poiché trovandoci in un contesto ospedaliero ovviamente diventava essenziale poter rafforzare questo punto qui queste sono semplicemente delle foto dei ragazzi con cui abbiamo lavorato nei vari villaggi prima Mundri la Camadi in volo e poi questo è lo staff dell'ospedale di lui delle fasi di formazione di training a inizio progetto in ogni villaggio e soprattutto come dicevo questo la fase di supervisione che abbiamo fatto abbiamo iniziato a campionare abbiamo iniziato a lavorare insieme a loro come si vede per ogni paziente è stato raccolto un vetrino uno spot un test rapido tutto in anonimo tutto barcodato ovviamente per risalire nuovamente a identificare ogni campione coinvolgendo questa volta invece il livello superiore sanitario quindi andando al laboratorio di parassitologia del ministero della salute anche qui in un'ottica di capacity building abbiamo fatto un'implementazione diagnostica di tipo molecolare per cui abbiamo lavorato con loro implementando una realtà in PCR che permettesse di fare una detection di plasmodium e una diagnosi differenziale di specie ovviamente alla fine della prima fase come dicevo abbiamo fatto un meeting con loro siamo ritornati nuovamente per mostrare risultati questi sono i risultati del campionamento della prima fase come si vede si è iniziata a novembre si è arrivati a marzo ovviamente all'inizio un po' più lento a causa delle festività natalizie però si è raggiunto tranquillamente la numerosità campionaria e anche più per ogni centro abbiamo verificato dai test rapidi che c'è circa un 6% di test invalidi il che chiaramente può essere accettabile su una numerosità campionaria del genere ma abbiamo notato il fatto che è prevalentemente a carico dei due centri di Mundri quindi in Arancione e in Volo verosimilmente perché sono i centri che hanno un afflusso maggiore di persone e quindi probabilmente erano più operati di lavoro andiamo alla prevalenza come si può ben vedere la prevalenza è alta anche stagione secca abbiamo riscontrato il 26% solo all'analisi dei test rapidi come si vede sulle due popolazioni ovviamente non è equamente distribuita come ci si aspetterebbe è chiaro le donne in gravidanza sono la popolazione sentinella per eccellenza in questo caso perché ovviamente hanno degli accessi alle strutture ambulatoriali dettate più dalle visite antenatali che dà una sintomatologia diversamente dai bambini e soprattutto si vede come la colonnina blu indica il villaggio di Lacamadi dove la prevalenza è maggiormente più elevata probabilmente perché si tratta di un villaggio periferico a cui afferisce un'area veramente basta per cui ci sta che la maggior parte dei bambini che afferivano lì erano febbrili ed è verosimile che quasi la metà di questi avessero una malaria in atto brevemente i test rapidi che abbiamo utilizzato avevano due target abbiamo notato che è stato un problema questo cioè il limite dell'interpretazione dei test poiché non erano abituati a utilizzare un test del genere è stato un forte un punto di sfida è chiaro implementare utilizzando un test più performante sicuramente è una cosa utile ma se non si capisce bene come utilizzare e come interpretarlo potrebbe essere una lama a doppio taglio discorso analogo per la microscopia cioè ci siamo resi conto che sostanzialmente a livello periferico è troppo difficile implementarla per mancanza di personale quindi abbiamo pensato che fosse giusto centralizzarla a livello molecolare le indagini verranno effettuate in collaborazione con il Sanger Institute verrà fatto appunto un volginum amplification per selezionare appunto il genoma di plasmodium e dopodiché si andrà a fare una diagnosi chiaramente di specie per plasmodium e in casi di plasmodium falciparum positivi si cercheranno appunto le mutazioni per la farmacoresistenza e le delezioni HRP andando verso le conclusioni beh ci siamo resi conto che comunque ripeto c'è un'alta prevalenza di malaria che la copertura soprattutto per la profilassi preventiva delle donne in gravidanza è molto bassa poco più del 30% raggiunge la terza dose di trattamento appunto in gravidanza ovviamente al momento abbiamo solo i dati dell'RDT ma la comparazione di diversi metodi ci permetterà di capire in quale contesto è meglio utilizzare un test rispetto a un altro infatti a livello periferico del PHCC ci siamo resi conto che probabilmente la microscopia non è sostenibile altresì invece è possibile pensare a un'implementazione a livello ospedaliero come si vede ovviamente salendo ancora di livello sanitario sul laboratorio di sanità pubblica ministeriale invece è possibile implementare un progetto di sorveglianza in prospettiva futura sicuramente fare degli studi qualitativi per capire perché la copertura al trattamento preventivo in gravidanza è così bassa tra l'altro piccolo inciso la distribuzione di zanzariere impregnate è pressoché nulla così come la chemioprofilassi stagionale per i bambini ovviamente niente chiaramente il limite sull'RDT sulla microscopia è già detto a livello periferico quindi implementarla a livello ospedaliero e cercare di avviare un percorso di monitoraggio epidemiologico per evitare di avere dei gap conoscitivi che dal 2013 al 2022 non ci danno più nessuna informazione in modo tale realmente da poter avere una risposta efficace e collettiva contro la malaria grazie per l'attenzione vorrei ringraziare la professoressa Mangano per avermi coinvolto in questo progetto con cui abbiamo condiviso diverse fasi di lavoro sul campo il project manager Diego Longoni e tutto lo staff di CUAM e local pi Victoria e dottor Joseph grazie per l'attenzione grazie Marco un po' oltre i tempi però abbiamo tempo per qualche domanda in fondo Marco Pumbi è giusto sei tu grazie Marco per la presentazione veramente interessante mi viene da farsi una domanda che è quasi un commento anche se non strettamente legato a quello che hai fatto tu le informazioni entomologiche in quell'area ci sono ci sono dei gruppi che lavorano su zanzare e soprattutto se non ci sono prevedete di associare un training in questo senso anche perché in quella zona è arrivata Stefansi che potrebbe cambiare completamente il quadro epidemiologico e quindi creare una malaria tra l'altro più legata alle zone entropizzate quindi insomma potrebbe essere ancora più importante farlo grazie Marco per la domanda allora in realtà che io sappia non ci sono dei gruppi che si occupano di monitoraggio vettoriale e mi viene da pensare che non ci sia neanche un sistema di sorveglianza nazionale gestito dal ministero dico questo perché se è così come dire larga la maglia della supervisione del monitoraggio sulla patologia umana mi viene difficile pensare e soprattutto si tratta di un contesto veramente tanto rurale veramente tanto a scarse risorse quindi credo che in un'ottica di implementazione siamo ancora allo step precedente ripeto guardavo il malaria report c'erano delle stime di distribuzione delle zanzarie impregnate che facevano come dire erano dei numeri fantomatici permettetemi il termine perché oggettivamente dall'esperienza che abbiamo fatto non ne abbiamo vista una e quelle poche che abbiamo viste venivano utilizzate per pescare al fiume o per costruire le gonnelline ma ovviamente non ti racconto nulla di nuovo altre domande ok grazie mille e grazie a tutti i candidati tutte le candidate ci aggiorniamo stasera la cena sociale grazie mille grazie a tutti 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 grazie a tutti